There's no place I'd rather be 1, 4, 3, 2, 1 Allora ragazzi buongiorno, oggi ragazzi siamo qui io e Virgi Virgi E siamo venute qui a Rainbowland Rainbowland A Rainbowland Intanto c'è quella giestra che vado a metter, è troppo ansia Guardali, guardali come ci sono Oh che là sopra ci dobbiamo andare anche noi eh Sì, sì Virgi Raga salire su quella giestra con Virgi significa perdere un timpano gratis Quindi potete anche voi perdere un timpano Forse salite sulla giestra con Virgi Quindi nada raga adesso stiamo cercando l'entrata Ecco a rega Special vips Ah sì raga perché noi fai il bus Siamo vips Noi siamo vips E nulla Eccoci qua entrati dentro a Upark E niente, Virgi mi copia con i vlog Ovviamente Devo farlo anch'io Come fa sempre E nulla ragazzi A sto punto io per ora come vorrebbe posso anche salute E vi posso dire se potremmo anche beccar dopo Tu che dici Virgi? Ti beccavo dopo Ciao 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 tumblr Raga sono appena scelta sta giostra qua Io stasera che non ce l'ho capito niente Era tutto buio Girava sto coso E Virgilia urlava Io urlavo tutto il tempo Poi ci ho capito Virgilia urlava Poi ragazzi mi riuscivi a trarrere un modo comunque per reccare tutto quanto Tanto che questa è stata una giostra abbastanza buia Quindi boh non c'è capiva niente tutto girava e basta vero Virgilia brava Sì Eh siamo a Roma allo stesso tempo in Egitto ragazzi Ecco Oh ma ti ho detto di parlare? Sì Oh 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 E nulla Eeeh La c'è gente che urla E niente Virgi guarda ci sei tu Guarda che cara che sei Hai visto che è gnoccura? La sera quando dormi è così Hai visto? Quanti zuccherumi E anche questo qui ragazzi l'abbiamo fatta Poi che però era un videogioco dove ti può sparare con delle pistole Era figo Un videogioco della vita reale bellissimo E voi tipo dammo sparare Io ho fatto tipo Cento Cinquemila Centosettemila Centottottomila Io ho tipo Centoseimila Beh ha barato raga Raga non ho parole Sono tutta pratica C'è I capelli C'è Non lo so Ieri mi sono lavata i capelli Ieri E niente C'è Virgi qua che vlogga Io che vloggo Io mi introduco nel vlog da Virgi E Virgi si introduce nel vlog E niente Perché? Perché? Io sono tipo pratica Tanto E nulla Ci siamo anche messi al primo posto Che bello Per far bene le riprese E mannaggia E niente La vita è bella Peccato che I miei capelli E niente Oh eccoci qui ragazzi Pausa Pranzo Io mi sono presa uno dog Virgi si è presa un hamburger Che ricca i patatiini E i patatiini E i patatiini No 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 io non neanche urlato sulle montagne russe c'è assolutamente che non aver mai urlato no proprio no proprio nessun momento questa ragazzi è la zona bimbi e niente qua ragazzi c'è sto scontro con le macchine potete capire quanto si giocava da più piccolina veramente era stupendo qui c'è Virginia De Gregorio che non De Giglio ma De Gregorio e niente si che bella raga tutta l'acqua pulita e poi noi siamo salite la veramente ma veramente ma veramente poi raga noi ci saranno quei cose della pizza che tu tipo metti i soldi ti fa tutta la pizza con un macchinario su WTF queste ragazzi sono le quadrature con le tumbler e fighe mi fai vedere tutto il paesaggio con Virginia De Gregorio che ovviamente me le vlogga in faccia Fai.. si è fatto il vuoto sopra le tante ok Virg sei pronta? no 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 aaaaah madonna che ansia appena scesa dalle torri e niente c'è tanta tanta ansia ragazzi da parte di Virg Ma io ti aspettavo di peggio però dai Regà dopo le montagne russe ormai non ci scandalizza più niente Dopo prima abbiamo fatto altre due cosette che girano Però proprio erano nulla in confronto alle montagne russe che abbiamo fatto stamattina Eeeeh niente Luigi a te che cosa che piacciono? I cacciofi Ragazzuoli siamo giunti al termine di questa giornata Di questo video Comunque che questo video vi sia piaciuto Abbiamo fatto una divertitissima giornata a Rainbow Magic Land E niente E nada Sto guardando Sto male Io ho la mia orcetta Vi salutiamo Se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like Se vi trovate il link Del canale De Virginia De Gregorio Mi raccomando vi mando un kiss E anche a Billy E nulla Ci vediamo al prossimo Vai Aspetta Ciao 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 Ciao